Stamani a Caltanissetta la Commissione Nazionale Antimafia, presieduta da Rosi Bindi. Prima le audizioni con i vertici delle forze dell'ordine, nel pomeriggio l'incontro con i magistrati. Al termine, intorno alle ore 19, una conferenza stampa. L'arrivo di Rosi Bindi in prefettura è stato preceduto da quello del vicepresidente Claudio Fava. Una battuta, una battuta mia. Ancora prima di cominciare a fare... Perché avete deciso di riunirvi a Caltanissetta? Caltanissetta, perché rientra nel giro delle DDA che noi stiamo facendo. Caltanissetta mancava e poi perché ci siano buone ragioni anche di attualità giudiziaria perché Caltanissetta sia un luogo di attenzione particolare da parte nostra. A parte il fatto che poi sono competenti per l'inchiesta sui processi per le stragi. Il riferimento è all'indagine nella quale è convolto il presidente della Camera di Commercio? Anche quella. Grazie, ci vediamo stasera. Qualcosina ce la può anticipare? Il canale delle due dita è iniziata la commissione, venite a fare le riprese in audizione e la notizia è quella. Ma non ci può dire il motivo di questa visita? Venga Presidente. Quello lo sapete già. Vabbè, andiamo. Grazie. La montante c'entra qualcosa? Grazie. Si è detto che si parla stasera si parla stasera. Presidente, buongiorno. Attenzione.